Ciao amici, nuova recensione! Eccoci finalmente dopo più di 40 giorni per poter parlare dell'iniziativa in maniera completa e definitiva, secondo la mia opinione, delle monete paper dollari da Marco Rota realizzate. Io ritengo che ci sia un solo pregio in mezzo a 4 grandi difetti. Ne parliamo insieme in questo video? Aspetto le vostre opinioni, la mia non è verità assoluta, ma rimane una mia opinione appunto. Guardiamo meglio insieme. Il pregio che trovo in tutto ciò ovviamente è la qualità delle monete. Ritano ad essere davvero belle e finalmente possiamo fare un focus on su ognuna di esse. Archimede, Quicoqua, Paperoga, Paperina di Paperone, Nonna Papera, Rockerdac, Paperoga, Gastone, Nonna Papera e Brigitta. Quindi 12 personaggi in realtà, perché i nipotini ne fanno 3 in 1, ognuno di essi al suo esterno, insomma nel suo retro, possiede un numero differente e null'altro, perché tutto il resto è identico, scelto un pochino a caso in realtà che identifica il valore della moneta. Questo è l'unico pregio. Mi spiace dirlo, Marco Rota ha fatto un grandissimo lavoro, perché le monete risultano essere come se fosse un vero euro, insomma la grandezza è anche quella. Fa una moneta in tutto per tutto, vedete, no? Fa il classico rumore. Ma secondo me non c'è altro che mi faccia dire wow. E parliamo di prezzi, perché quello che conta tante volte è quanto costa un'iniziativa, quanto io devo sborsare da questo purtroppo leggero portafoglio, circa 50 euro. E chi dice, zio Alen, ma guarda che l'iniziativa in realtà è in omaggio, sì ma per avere queste monete non è che io vado a pagare appunto l'omaggio e quindi le ricevo in 10 euro. Io devo pagare comunque il prezzo di copertina di tutti questi fumetti e tra l'altro ho dovuto prendere anche il primo numero in doppia copia perché teneva il cartoncino, nonché questa roba qui. Conseguentemente chi dice che non costa 50 euro non ha capito il mio discorso. Per averle tutte bisogna pagare 50 euro. Poi, indipendentemente da quello che io compro normalmente, sicuramente il topolino l'avrei preso a prescindere, il paperino anche, il paperinicchi in questo caso pure, lo zio anche, forse, insomma, col senno di poi avrei potuto anche non prenderla più. Invece mi sono stato costretto un pochino a continuarla. Quindi già 50 euro per tutto ciò lo ritengo un prezzo davvero esagerato. Altro problema è il cartoncino, il raccoglitore. Voglio mettermele qui a riferimento con quelle uscite di Giorgio Cavazzano diverse anni fa. Eccole qua. Erano solamente quattro, uscivano in allegato ovviamente al topolino perché non sia mai che uscissero con altre al tempo testate. Tra l'altro erano in collaborazione con la Zecca. Io questo non lo so se sono creato dalla Zecca o meno perché non c'è scritto. Quindi per quanto mi riguarda già è una collaborazione non da poco che viene a mancare, ma il cartoncino è scadente. Questo in realtà è identico, ma le monete non cadono. Beh che sono solamente quattro, mi direte. Posso garantirvi che il solco, il piccolo spazio per mettere la monetina è molto più resistente. Insomma, io metto la moneta perfettamente, la incastro senza paura di romperla e non cadono. Mentre queste, se io le prendo di forza perché le voglio far vedere a qualcuno o sbatto il cartoncino. Ecco, guarda, guarda, guarda. Hai visto? Le monete cadono. E non perché le abbia messe male, ma perché tendono a cadere le monete. Perché purtroppo è fatto male il cartoncino. Io ho pagato al tempo, non potevo non prenderlo perché dove me le sarei messe. Due euro in più, tra l'altro, forse tre, per questo cartoncino scadente. Cui, tra l'altro, non rende manco un'ora alle monete. Perché i retri, così in realtà come difetto delle monete di Paperopoli, che sono rimaste tale, non vengono visti. Ma purtroppo non ha uno specchietto dietro, una plastichina che faccia vedere il retro. Non ce l'ha. E di conseguenza io devo esporre le monete in questo modo brutto. Io lo dico sempre, l'ho detto più volte, questo sembra il classico cartoncino di Amazon, riciclato, ricolorato, riutilizzato. Tra l'altro, la legatura, la colla che tiene in sé il cartoncino è veramente poco resistente. Insomma, secondo me questo è un gran difetto, che magari a pochi interessa, ma io lo ritengo tale. Tra l'altro, io ho paura a mettere le monetine, perché ogni volta che io inserisco, o voglio toglierne una, vado a creare dei piccoli solchetti, che non so se si possono notare. Io li noto, perché il mio dito fa su e giù, come in piccole montagnette. E si fanno perché io non so quanto imprimere. Dato che se imprimo troppo poco, la moneta rischia di cadere. Se imprimo troppo, creo il solco. Che devo fare? Terzo difetto, per me, sono i troppi fumetti inutili. Voglio fare una piccola analisi di ogni testata. Il topolino l'avrei preso ugualmente. Tra l'altro, il secondo numero, vedete, è ancora imbustato, perché io non pensavo che arrivasse la monetina legata. Quindi ho dovuto prendere anche un numero in più per la monetina. Ah, vabbè. Quindi i topolini li avrei presi, e anche quindi 5-10 euro che siano, li avrei presi ugualmente. Andiamo in ordine per come ce li ho. Paper monete è un fumetto che mai avrei preso, per quanto comodo. Fogli, pagine bianche, potenzialmente anche belle storie, che però già possiedo. Ho pagato 4,50 euro per avere la monetina. E quindi un fumetto che mai avrei comprato, anche perché, che me ne faccio, fra tanti anni io dico, ah, beh, sì, un fumetto sulle paper monete. Ci fossero storie inedite, le pagherai anche 10 euro un fumetto del genere. Fossero tutte storie legate alla numismatica. Ovviamente questo non è, perché altrimenti costerebbe troppo, e si opta per fare un prodotto che mai mi sarebbe interessato. Big, altra, grande, in tutti i sensi, testata, che io mai avrei comprato perché trovo altamente scomodo alla vista, che tra l'altro è la testata, paradossalmente, più grande, ma allo stesso tempo più piccola in pagine. Perché è grande in termini di spessore, insomma, ma è corta in termini di diagonale. È più grande un topolino, e non scherzo, vedete? Quel poco fa, perché la tavola risulta molto più piccola, e tra l'altro, essendo un fumetto incollato di 400 pagine, non si riesce manco ad aprire benissimo. Conseguentemente, io ammiro, rispetto chi lo compra, ma spero davvero di non vederlo mai più in libreria. Andiamo poi col paperino, un fumetto che ovviamente ho acquistato in busto, quindi ci tengo, perché ho tutta la collezione, ma non sono tutti come me. Tanti di voi che mi seguono lo comprano accidentalmente, casualmente, ne hanno qualcuno in casa, mica tutti. Quindi mi immagino quanto sia stato, anche a volte, fastidioso comprare una testata come questa, solo per avere la monetina. Poi, lo zio paperone, uscito in due numeri, perché abbiamo avuto ben due monete legate adesso, una a gennaio e una a febbraio poco fa, che ovviamente anche io compro, ma mi sto ricredendo se continuarlo o meno, perché onestamente risulta essere un qualcosa di ridondante. Bellissime copertine, vedete, le copertine sono molto belle, nulla però a che vedere con la copertina stessa, nulla a che vedere con il periodo, siamo a febbraio, mi aspettavo storie di San Valentino, niente. Siamo a gennaio, mi aspettavo storie invernale, niente. O comunque pochissime, mi vengono da ricordare. Oppure ancora, eravamo a Natale due mesi fa, una, due storie di Natale. È imbarazzante la cura, la gestione di questa testata, che davvero mi fa venire la voglia di non comprarla più, ma in realtà il numero 33, sappiatelo, lo prenderò ancora per una mia promessa con me stesso. Grandi classici? Beh, i grandi classici è una grande testata, anche solo al tatto, è molto soffice, è bella, è un fumetto comunque di tante pagine, che si apre bene, anzi benissimo, propone anche storie di quasi cent'anni fa, perché parliamo di storie di Gotherson in questo caso. È un indice veramente interessante, abbiamo storie dal 39 al 2004 in questo fumetto, quindi super interessante, ma io ho un'opinione piuttosto impopolare di questa testata, probabilmente, visto che io punto ad avere, per collezionismo personale e da amante del Topolino, un domani i Topolini originali. Per esempio, io la storia sul Topolino 621 la possiedo, ma mi rendo conto che è un Topolino di 60 anni fa e non tutti lo possiedono, e quindi i grandi classici fa per voi. È una bella testata, che però paradossalmente non compro. Tra l'altro poi pagine bianche e pagine anche di qualità, molto più che il Topolino e molto più che tante altre testate. Poi abbiamo Paperinic, che ho acquistato solamente per il numero 50, e in questo caso pure per la moneta, quindi mi è venuto quasi comodo avere la moneta inallegata, altrimenti forse l'avrei preso. Un fumetto che ho anche imbustato, quindi significa che ci tengo, ma che non comprerò mai più, perché è un po' come il Paperino, è un po' come lo zio, sono mensili, vatte la pesca quasi, nel senso, ristampano storie con nessun tema, nessun argomento specifico, randomiche. Sì che vi sono al suo interno storie, per esempio quella di PK, che io mai avrei letto se non in questo numero, oppure una storia, mi pare questa qua, Paperinic e Bassotti, maestri di recupero, insomma ce n'è una che comparve neanche sul Topolino, la storia mai vista. Sì, magari c'è quel qualcosa in Paperinic perché vennero create testate prima di lui, con lo stesso nome, già al tempo con delle relativi inedite. Però ecco, nulla di davvero interessante, ma è una mia opinione, è una mia scelta. E poi passiamo ad un altro volume, un po' inconsueto, che è un po' del periodo, tre dei paperi, il nuovo classico Disney, formato vito stabile in questo caso, che ne cura proprio la testata. Anche qui vedete pagine che si aprono bene, che si sfogliano bene, pagine bianche, bello morbido, flessibile, ma un romanzo a storie, a fumetti, che davvero non mi è interessato, perché non mi piace il format che vengano collegate forzatamente storie che nullano a che vedere l'un con l'altro. Questa è la loro forza, ma per me è un punto che non mi interessa. Però, d'altra parte, mi ha fatto capire che il prossimo numero lo prenderò, perché c'è Marco Nucci, non per altro. Tra l'altro, vi fai vedere una cosa. Paper Monete è un volume che è super ristampone, che non si filerà a nessuno. Questo valore di 4,50, già ora vale molto meno, ok? A meno che abbia la moneta, ovviamente. E guardate come si sfoglia bene. Ora, guardiamo il topolino 3399, che uscì lo stesso mese, periodo di Paper Monete. E questa vi sembra la qualità? Oggi, devo dire che un po' è migliorato, perché il rumore non è così elevato come mi aspettavo. Però, dai, non è possibile. Non ci voglio credere che la testata madre, qualitativamente... Guardate perché quando sfoglio solo una pagina alla volta. È impressionante. Poi, pagine da volantino. Sì che hanno costi differenti, topolino e Paper Monete, però, cavolo. Mi sento preso in giro. Il topolino e la testata madre, da cui tutto parte, non esisterebbe nulla se non ci fosse topolino e tutto ciò, viene surclassato da Paper Monete. Imbarazzante. E poi, ultimo difetto, ma non per importanza, è lo stress che mi ha arrecato arrivare ad avere tutta questa collezione. Perché io, stupido, sarei potuto abbonarmi, prolungare l'abbonamento di totte numeri e poter ricevere in casa le monete. Non lo feci per mia scelta, perché non è che posso abbonarmi ad ogni gadget e rinnovare l'abbonamento. L'ho già piuttosto lungo e sicuramente avrò modo di rinnovarlo già ad aprile con i prossimi gadget, quelli legati alle statuine. Ma per cercare certi fumetti, in particolar modo quest'ultimo dello zio, ma ricordo anche il Big, purtroppo in negativo, e il Paperinic, per cercarli ho avuto davvero grande stress e fatica. Ricordo che il Big, io ho cercato e l'ho atteso per tre giorni. Il giorno in cui sarebbe dovuto uscire, quindi il 5 gennaio, era introvabile, perlomeno nella mia città, e l'Imitrofi. Io lo comprai il 28, mi pare, tre giorni dopo, per un fumetto che non mi interessa niente, però c'era la moneta, e quindi sono stato costretto, tra virgolette, seppur consapevole di ciò, a doverlo comprare. Paperinic, non ne parliamo, un altro fumetto che, prima che lo trovassi, passarono davvero tanti giorni, del tempo. Di Paperone, forse è stato il peggio, perché dopo sette giorni, rispetto alla sua uscita ufficiale, in qualche edicola, ancora non è presente. insomma, è imbarazzante questa gestione. Io non voglio spendere tempo, in tutto ciò, perché ritengo che tanti fumetti, non vale la pena, di dover spendere il tempo, e andare a cercare. Io mi svegliavo la mattina, col pensiero, ah, oggi esce Papermonete, che stress, devo andare a recuperare, prima che vengano fregati, da altri utenti. Visto che la distribuzione, non è cambiata. Se prima venivano consegnate, copie da edicola, di Paperinic, due a edicola, con la monetina, che sapevano bene, che sarebbero andate più a ruba, quelle copie, sempre due a edicola. Il Big, per esempio, ho parlato con l'edicolante, in tutti gli edicolanti che conosco, ce ne sono sei, nella mia città circa, anche se poi fanno a turni, eccetera, sono affiliati, sei edicolanti su sei, mi hanno detto, che hanno ricevuto, una copia di Big edicola. Ora mi dico, possibile che in tutta la città, solamente sei persone, compagano il Big mensilmente, non ci voglio credere, città di 40 mila abitanti, non ci credo. E comunque, con le monete, non ci credo che la richiesta, sia solo di sei persone, su 40 mila. Quindi una gestione imbarazzante. Detto ciò, cosa voglio dirvi, e cosa voglio farvi sapere? Che sicuramente, ormai, non rinnego la mia scelta, di aver comprato le monete, perché non bisogna mai pentirsi di niente, ma che serve da esperienza, dagli errori si impara. Per me, questo è un errore di valutazione. Sicuramente, ormai, questi fumetti, li terrò in mia collezione privata, non li venderò mai, anche perché non mi interesserà venderli, assolutamente. Comunque, è un'esperienza di lettura, qualche storia carina qua e là, evitabile, seppur. Ma, i prossimi gadget, valuterò con estrema franchezza e chiarezza, se recuperarli. Quello di marzo, sul deposito, non lo prenderò. Quelli di aprile, valuterò, anche se sono propenso a sì, dovessero uscire nuove banconote, nuove monete, valuterò se ci fosse la possibilità di abbonarsi, dovessero uscire la pistola d'acqua, non la prenderò. O dovessero uscire qualcosa legato ad altre testate, non le prenderò. Voglio essere chiaro, e spero che questa mia analisi, in qualche modo, possa suscitare in voi, un commento di analisi di tutto ciò. Detto ciò, io vi saluto, questi sono 50 euro spesi, per poter arrivare a questo cartoncino scadente, e queste monetine comunque, alla fine, piuttosto carine. Per oggi è tutto, non vedevo l'ora di fare questo video, anche il 3PD non ne può più. Alla prossima, ciao a tutti.